La Polizia di Stato si racconta attraverso gli scatti fotografici del calendario 2023, un'edizione che valorizza lo spirito identitario con l'obiettivo di mettere in risalto i valori della legalità, della sicurezza e del rispetto per l'ambiente e la natura. Le 12 tavole fotografano l'impegno quotidiano della Polizia di Stato e sono un inno alle bellezze d'Italia. Le foto sono state infatti realizzate in giro per il bel paese ed il patrimonio ambientale e artistico d'Italia impreziosisce le immagini che catturano il lavoro dei poliziotti. Per quest'anno, con il ricavato della vendita, l'Unicef intende raggiungere oltre 2 milioni di persone con il ripristino di pozzi e sistemi idrici, il trasporto d'emergenza dell'acqua, il trattamento dei bambini malnutriti e la fornitura di istruzione e supporto per la loro protezione.